Dunque andiamo ad eseguire in questo laboratorio una configurazione di una VLAN, o meglio di alcune VLAN. Cerchiamo di capire appunto qual è l'utilizzo che si deve fare di queste VLAN e quindi andiamo a prendere dei PC, li colleghiamo a uno switch e quindi mantenendo la stessa topologia fisica andiamo a fare dei cambiamenti. Quindi qui mettiamo il nostro PC, punto 2 e punto 3, ok? Andiamo a configurare ovviamente anche gli indizi P dei nostri PC qui all'interno del pannello di configurazione, quindi punto 2 e qui facciamo punto 3. Ovviamente questi PC si troveranno tutti quanti nella stessa rete, quindi non ci sarà bisogno di un router per farli comunicare tra di loro e quindi qui facendo appunto un ping tra i vari PC la comunicazione avverrà correttamente. Ora vi è la possibilità mantenendo quindi gli stessi indirizzamenti, semplicemente andando a cambiare le configurazioni delle VLAN consentire di segmentare la rete. Quindi ad esempio io posso creare una VLAN 10, 10, una VLAN 20, 20 e una VLAN 30, 30 e posso attestare quindi le VLAN in modalità differente, quindi sulle varie interfacce. Quindi ad esempio sulla FastEthernet 01 attesto la VLAN 10, sulla 02 attesto la VLAN 20, sulla VLAN 3 attesto la VLAN 30. Quindi mantenendo gli stessi indirizzamenti IP adesso e avendo cambiato quindi l'indirizzamento delle VLAN non posso più comunicare da un PC all'altro, vedete? Posso ad esempio spostare agevolmente quindi questo PC collegato alla FastEthernet 03 dalla VLAN 30 alla VLAN 10 per cui avrò questo PC e questo PC che sono sulla stessa VLAN e quindi la comunicazione tra questi due potrà avvenire correttamente come evidenziato qui sotto. Bene, a questo punto possiamo fare un'altra configurazione in questo modo questo qui lo possiamo cancellare, non ci interessa quindi andiamo a configurare quindi un PC un altro PC qui facciamo due PC on the left e due PC on the right quindi prendiamo uno switch un altro switch e prendiamo un router da questa parte ok? e andiamo ad eseguire questa configurazione quindi colleghiamo questi, anzi, scusate e andiamo ad eseguire questa configurazione adesso cioè prendiamo due PC left, due PC, right prendiamo uno switch ok? ed eseguiamo i collegamenti tra questi PC e la switch ora, come evidenziato, diciamo, da questo schema vogliamo in qualche modo configurare questi PC su una VLAN left di sinistra e questi PC su una VLAN right di destra quindi qui andiamo a fare 192.168.1.1 slash beh, qui cominciamo a segmentare anche a livello di network quindi facciamo una segmentazione di questo tipo quindi punto 1.2 slash 25 qui invece avremo 192.168.1 punto 129 slash 25 e qui 192.168.1 punto 130 slash 25 facciamo una segmentazione quindi sia a livello di VLAN ma anche a livello di network vedremo che questo qui sarà importante proprio perché dovremo configurare delle interfacce virtuale all'interno del router che consentirà la comunicazione e quindi, diciamo, ci mettiamo già in un'ipotesi quindi importante per questo tipo di configurazione quindi qui 192.168.1.2 slash ovviamente qui è slash 25 quindi 128 da questa parte faremo 192.168.1 punto 129 quindi 128 e da questa parte 192.168.1 punto 130 128 ok in questo caso vado a configurare abbiamo detto ok facciamo prima questo test di comunicazione cancelliamo qui così abbiamo una situazione più pulita quindi questi due pc ovviamente comunicano tra di loro questi due pc comunicano tra di loro beh, questi pc non comunicano tra di loro perché appartengono a due subnet differenti quindi non possono comunicare quindi c'è una necessità di avere un router qui per farli comunicare ora cosa succede? che qualora volessimo mettere un router qui quello che dovrebbe accadere è che dovremmo avere due connessioni tra il router e il pc proprio perché dovremmo configurare un default gateway per questa subnet ed un default gateway per quest'altra subnet in questo modo i due pc potranno comunicare con il router questi due pc potranno comunicare con il router e si potrà fare il routing tra questi pc e questi pc quello che possiamo fare è configurare delle VLAN per far sì che vi sia un'unica connessione tra lo switch e il router stesso e che quindi la comunicazione possa venire sfruttando la stessa connessione che c'è qui sulla fast ethernet 0.5 e sulla gigabit ethernet 0.0 in che modo? andiamo a configurare intanto il VLAN database 10 left e 20 right e lo vado a configurare quindi sulla fast ethernet 0.1 abbiamo un 10 sulla fast ethernet 0.2 abbiamo 10 sulla fast ethernet 0.3 abbiamo 20 sulla fast ethernet 0.4 abbiamo 20 quindi abbiamo configurato sulla 1.2 10 sulla 3.4 20 ok a questo punto cosa succede? succede che dobbiamo andare a configurare quindi una VLAN scusate sulla 0.5 dobbiamo configurare una modalità trunk su tutte le VLAN quindi in particolare sulla 10 e sulla 20 cioè stiamo dicendo in qualche modo che vogliamo consentire che vi sia sulla fast ethernet 0.5 traffico di entrambe le tipologie di VLAN per fare questo dobbiamo fare una configurazione anche a livello di di router quindi abilitiamo questo router e sull'interfaccia gigabit ethernet 0.0 dobbiamo fare questo tipo di configurazione cioè configurare delle interfacce virtuali la 0.10 possiamo scegliere noi l'etichetta solitamente si usa una convenzione utilizzando il numero della VLAN per diciamo praticità di utilizzo dobbiamo stabilire che vi sia un encapsulation dot 1 q v10 ip address 192.168.1.100 in questo caso 255.255.255.128 cioè stiamo dicendo in qualche modo che vogliamo che vi sia un'interfaccia virtuale con un gateway che sia un gateway visibile da queste due e che faccia transitare la VLAN 10 facciamo la stessa cosa adesso per la VLAN 20 quindi facciamo un encapsulation dot 1 q 20 e stabiliamo come default gateway il 200 ok a questo punto possiamo andare a vedere che effettivamente la configurazione sia stata fatta correttamente con un do show run ok perfetto manca il default gateway qui sulle nostre sui nostri pc quindi 192.168.1.100 la stessa cosa dobbiamo fare qui sul nostro pc numero 2 ok e da quest'altra parte dobbiamo fare la stessa cosa però con il default gateway 200 quindi 200 e 200 da questa parte ok a questo punto la comunicazione dovrebbe venire correttamente quindi cancelliamo qui il tutto ora tra questi due ovviamente è successful tra questi due è successful tra questi due prima volta failed seconda volta successful quindi la comunicazione sta avvenendo correttamente riproviamo anche da questa parte successful